E aiuteranno anche i parroci, le linee comuni per il catecume nato in Puglia, presentate a Molfetta. Il servizio è di Alba di Palo. Un lavoro nato dall'esigenza di avere un supporto che fosse alla portata dei parroci e di coloro che accompagnano chi chiede alle comunità parrocchiali di diventare cristiano e che ha un bagaglio culturale, sociale e anche religioso differente. Il supporto è tutto qui, nelle pagine che raccontano in tappe le linee comuni per il catecume nato in Puglia. Un lavoro lungo anni che ha portato alla definizione delle modalità di accompagnamento nel rispetto della storia e della vita di chi sceglie di abbracciare il Dio. Un'esperienza che ha arricchito le diocesi pronte a una nuova fase dell'essere comunità. Ed è stata una bella esperienza di sinodalità, di concerto, un cantiere che ci ha visto due anni al lavoro e che ha portato il frutto che quest'oggi stiamo condividendo. Un frutto che, come è stato ribadito, come si sta dicendo nella conferenza di quest'oggi, è una tappa perché è una tappa che necessita una sua ricaduta in tutte le comunità parrocchiali della nostra regione Puglia. Per questo abbiamo fatto dono a tutte, grazie alla conferenza episcopale pugliese, che ha fatto suo questo documento, donare il testo, le linee guida, a ogni singola comunità parrocchiale.